e benvenuti ragazzi sono i vostri mino e mina e oggi siamo qua a cercare mina perché non la trovo eccola la trovata o da quant'è che non ci si vedeva dammi i blade da quant'è che non ci si vedeva qua dentro eh dammi i blade mi devi dare blade no blade non te lo posso dare così non voglio tardi comunque che si fa di bello come si è detto nello scorso episodio completiamo il primo il primo il primo blocco del learning to skyblock non dovevi dirlo perché così comunque queste ragazzi bisogna fare tutte queste palline che poi andranno mi sembra a fare serviranno a parte per la per la missione ma anche per credo 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 per il jetpack no mirtillo no femmo femmo qui femmo c'è un mirtillo che vi saluta che è qui sulle mie ginocchia mi piace tanto la tastiera vero che senti rumore vedete spostarlo ora sta guardando il micro infatti no no ancora non lo toccare eh buono buono eh io devo andare all'induction smelter all'induction smelter comunque mentre io ottengo mirtillo apriamo questa bustina che abbiamo visto la scorsa volta abbiamo vinto la scorsa volta vediamo cosa c'è dentro via io non ce l'ho no via dai mi sa l'ho 5 stancca no ragazzi abbiamo avuto mi sa no via non ci voglio credere ragazzi hai delle enderpearl enderpearl erano mirtillo scendete dove uno eccolo è bravissimo sceso nella cesta no erano qua no dov'è nella chest nella chest nella chest vado da lì prendi le tutte 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 almeno due ok a parte che l'indarion che mi serve l'ho fatto vabbè però noi continuiamo a farlo mettilo mettiamolo qua e facciamo il magma crucibo così se ne abbiamo bisogno dopo lo facciamo perfetto allora andiamo a fare queste bellissime palline e andiamo avanti con le missioni perché sta sta dilungando troppo questa cosa ha detto così quasi la letto sono di là dove c'è la soli sorri 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 spetta che c'è un mirtillo che vuole andare dai la ovviamente come si registra vuole muoversi. Ok, allora ragazzi, per fare queste palline innanzitutto ci vuole l'enderium bled, ovvero la polvere. Solo per l'ultima ma ci vuole. Per fare lingotto di... ci vuole questa. Questa qui è la prima, no? Sì. Cioè la mini pallina, la lead, pallina, la pallina lead, il sulfur, l'headstone. Ok, allora la mettiamo in mezzo e ci mettiamo questa. L'invar o... no? Invar, l'invar. Bravissima, vai, vai. Ho sbagliato. Eccola qua. E la hardnid. Poi metto questa. C'è metto questo. Io prendo il diamante. L'electrum, che sono tutte cose ragazzi che abbiamo fatto con la fornace dietro di noi. La redstone e infine... perché ce n'è un'altra qui? Eh, perché l'avevo già fatta per me. Ah, ok. La metto che devi fare due. Sì, sì, sì. Eh, ma cosa ci metto là? Questa. Perfetto. Boom! Ed eccola qua. Se la fa anche Ilaria e ce l'avemmo. Questa cosa serve? Questa cosa andava al centro? Per fare i lingotti. Qui? Eh. Sicuramente non me lo ricordo. Devi sceglierne uno. Allora, io direi che, visto che siamo stati fortunati, mi sa che non ci ricapiterà una cosa del genere. quindi la bug non la prende. No. Eh, io andrei con la culinary. Tutti i culinari o anche redstone? Ma questi qua tanto ce l'abbiamo. Io andrei di questi. Ce l'abbiamo gli altri, no. Abbiamo detto che l'altra volta abbiamo preso uno. Allora, io l'high temperature fornace generator, non so cosa serve. Non lo so nemmeno. Alte temperature è buono, non capisco. Comunque vai a prendere culinari. O culinari. Scelto, te lo devono, via. Ops. Completato! Completato, completato. L'idea è di passare alla Hell's Kitchen, no? Sì, quella che mi piace tanto. E qui ce sono molte, molte meno. E qui tutte le verdure, ragazzi. Ecco perché la culinaria, guardate? Tutte le verdure. Fa tutte le verdure. Oh, eh, che cavolo. Vai via. Esce. Perfetto. Io vado a posare un attimo questo. Ci vediamo dopo. Eccoci, ragazzi, siamo pronti. Ora guardiamo tutti insieme cosa bisogna fare in questa Hell's Kitchen, perché sicuramente non l'ho mai fatta io, quindi... Vabbè, è carina per fare le cose per mangiare. Allora, fresh milk. Fresh water, ragazzi, abbiamo fatta, ma non so quando. Cheese. Salt. Burro. E? Sbattol. E? La crema. Heavy cream. Crema sbattuta. E crema sbattuta. Fresh milk. Andiamo a vedere il fresh milk. Eeeeh, torna lì, torna lì dentro. Torna qui dentro, torna qua. Perfetto. Fresh milk. Fresh milk, come si fa? Con del latte. Ovviamente, con del latte che abbiamo, ragazzi. Non ho visto quattro di latte? Sembra di sì. Innanzitutto prendiamo. Ho preso uno già io. Farlo, metti dentro qui? No, no. Oh, ma è sparito. A me no. Ah, perché è bagato, perché ce l'ho io. Se ti metti un secchio di latte, eh. Insomma, vabbè, nella crafting, te lo lancio. Tieni. Farlo te. Se lo metti, eh? Te ne da quattro di fresh milk. Ah, ok. Ciao, un altro aereo. Salutiamo. Ciao aereo. Adesso dobbiamo fare il formaggio, che naturalmente si farà con il latte. Ma credo anche il burro. No. Ah, dici il burro si farà con il latte. No, sale, heavy cream. La padella come si faceva? Ok. Ma la padella dovremmo averla. Comunque con il secchio del latte. Vado a prendere una padellina. Ma il sale ce l'abbiamo? Il sale? Eh. Il sale dovremmo avercelo, sì. 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 Sei sicuro? Sì, perché lo troppo là giù in fondo. Ah. Sì. Non mi ricordo. Con il pot e casomai con dell'acqua. Quindi. Tutte cose che abbiamo già craftato. Ti hai già craftato? No. Cattato? Padella. L'abbiamo già fatta la padella. Eh, ormai l'ho già fatta. Bottiglia di latte. Come si fa la bottiglia di latte? Cocco? Ma non importa la bottiglia. Mettici il fresh milk. Però ti manca il sale. No, padella, c'è il cocco. Dov'era? Qui? Ci fai cocco. Vai, cocco. Ecco. Uno. Questo, vedi? Mix Bowling. Ce l'abbiamo? Mix Bowling? No. Lo stavo cercando, non mi ricordo dove l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Facciamo che facciamo. Uno, due, tre. E uno. Comunque il pot lo avevamo. Uno, due, tre. E uno. Mix Bowling. Io faccio così. E le cream. Anche la crema l'abbiamo fatta. Ah, un glass bottle ce l'abbiamo. Bottol. Sale? Silk & Tofu. Salt. Sale. Salt, c'è salt. C'è salt. Il sale, il sale non c'è. Andai, sei andata a vedere laggiù? Ma non c'è andata a vedere. E allora? Andiamo a vedere laggiù, no, a vedere laggiù. Ma ne abbiamo messi gli attrezzi della... No, ok, non c'è. No, però aspetta, qui no? Questa è una finacissima. No. Che ti sbagli con le altre mod, quelle del... Portarsi. Vabbè, niente, facciamolo. Oh. Eccoli, eccoli, tada, tutti gli attrezzini. Ah, perché ti serve il pot e un secchio d'acqua. Ah, guarda come si fa. Con la nether. Nether salt. Oh. E quindi bisogna tornare nel nether. Nooo. Allora, fai te, vai. Facci. Ti ho detto, ti serve il pot, che è questo aggeggino qui, dentro la crafting. E un secchio di acqua. Ora, mi serve un secchio. Però, perché non me lo dice? Oh, mi sembra aver visto che si fa così. Eccolo, butter. Il butter. Vai, poi. Quindi cosa manca? Non lo c'ho. Ah, il formaggio. Ah, il cheese. 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 Dammi. Un cheese. Ah, il secchio si è consumato? No. Dammi il secchio. Secchio, sale e il coconut milk. Tieni, te lo metti dentro. Così. Scusa. No, voglio il secchio secchio. Ah, tieni. Cheese. Oh. Cheese. Ecco, facciamo una foto. Quindi, finito? Quindi finito? Sì. E ti dà il panino con la marmellata. Che cavolà. Eh, il sandwich con la marmellata di ciliegie. Perfetto. Smooth ice. Le, 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 le. Cos'è l'ho? Glaccia? Oggi te eri, eh? Sì. No, l'ho preso il copper. Ho preso io? No, non l'ho preso. Perché non mi serveva niente a me il copper. Come non ti serve? Ti serve per fare il... Glacial. Mi. Mi. È arrivato lui. Mi. Pronto? Sì. Vai, ok. Levalo, levalo. Lo prendo? Sì, sì. Prendi, prendi. Perché... Volei capire un attimo cosa serva, sinceramente. Mai visto... Vediamo un po'. Intanto le guardiamo. Ti, 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 ti. 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 Dovremmo usarlo per fare tutte queste cose qui. Noi, voglio fare tutte le verdurine. Quindi, la prossima volta diventeremo dei cuochi. Questo è facile. Quindi ci sarà... Master... Master Channel. Invece di... Master Craft. Master Craft. Vai. Ha trovato, il l'ha trovato. Quindi la prossima volta, ragazzi, Master Craft. Ci vediamo in un prossimo episodio. Da Min Bleh, cosa vuol dire? Bleh! Dai, iscriviti a caranale! Dai, tu, iscriviti! Dai, mari 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 mari! Ciao! Tu, iscriviti! E aspetta!